E buongiorno a tutti i telespettatori, in diretta per voi i rispettabilissimi Kika e Kiko. La notizia del giorno sono i dieci anni della scuola L'Art della Dance, L'Arte della Dance, L'Arte della Dance, Dance che te passa. Essendo Marta Grazia e Massimo Mancini arrivati a dieci anni di attività, vediamo come è reagito il corpo degli allievi. Passo dunque la parola a Kika. Dopo aver già apprezzato le bellissime sorprese cinematiche, cinefile, cinofile, cinematografiche di alcuni vostri allievi, vi starete chiedendo ma cosa stanno facendo gli altri ragazzi? Si sa, tra lavoro, studio, nulla facenza. Abbiamo questa tendenza a procrastinare, si rimanda, si rimanda, si rimanda. Ma alla fine è sempre un gran successo. Un po' come quando la nostra insegnante Marta Grazia ci dice sorridete durante le prove e noi rispondiamo sempre ma al saggio lo faremo, non ti preoccupare. A proposito, ma tu l'hai fatto? Comunque, da oggi cominciano le nostre manifestazioni di affetto, gratitudine, eccitazione, tipiche del periodo presagio. Quindi, per concludere, passo la parola al mio collega Kiko. Nella miglior tradizione dell'arte de la danse, parte dunque il countdown ufficiale, dieci anni, dieci giorni, dove potrete apprezzare le doti di questi magnifici allievi e di livelli di esaurimento a cui sono giunti in questi anni. Da oggi cominciano dieci giorni di video, foto, gatti, criceti, plie, mortadelle, scale a chiocciola, solo ed esclusivamente su questo canale. Rimanete quindi sintonizzati. Andata benissimo, grazie a tutti, grazie, 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 che piacere lavorare con lei. Grazie, grazie. Andiamo. No, ti scarto le gambe, le ti slacciano, certo. Eh, ma. Dai, mo, è andato bene, è andato bene, su. E buongiorno a tutti gli spettatori, diretta per voi, gli spettabili, Kiko e Kiko. La notizia del giorno, sono i dieci anni della scuola l'arte della dance, l'arte della... Aspetta, 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 lo tagliamo. Pronti? Grazie. 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 Grazie.